buonasera amici e amiche di nuova news 24 grandi sorprese domani sera per la puntata del grande fratello vip intanto i tre g e fini che sono andati al televoto sono a rischio tutti e tre attenzione a quello che potrebbe succedere proprio in puntata domani sera e proprio il grande fratello potrebbe riservare a tutte e tre delle sorprese intanto vi diciamo proprio che i sondaggi sembrano molto in bilico e quello che sta succedendo non si aspettava sicuramente non ci si aspettava una qualcosa del genere proprio perché c'era già qualcuno che era più avvantaggiato degli altri nei sondaggi ovvero Giuseppe Garibaldi Giuseppe Garibaldi era ovviamente tra i preferiti e invece si ritrova dietro a Ciro Petrone nei sondaggi in maniera clamorosa forse Ciro ha guadagnato qualche punto nelle ultime ore e probabilmente al discapito proprio di Giuseppe potrebbe essere lui a salvarsi intanto Jill Cooper quella meno votata nei sondaggi potrebbe avere anche lei una spinta proprio dai suoi fan e sostenitori che fuori la sostengono proprio per la sua grande bravura e ovviamente la sua arte del fitness e proprio Jill Cooper al momento però si trova col 29.55% in fondo alla classifica poi c'è 34.73 Giuseppe Garibaldi e Ciro Petrone in testa col 35.72 vantaggi veramente minimi tra Ciro Garibaldi e Jill Cooper c'è un distacco veramente minimo e questo potrebbe incidere proprio sull'andamento del televoto domani sera basteranno pochi voti in più per spuntarla e per essere il preferito dal pubblico quindi alla domanda chi vuoi salvare ovviamente Ciro Petrone al momento nei primi sondaggi è in vantaggio Jill Cooper quindi è quella che rischia e insieme a Giuseppe Garibaldi però ricordiamo che Giuseppe Garibaldi è sempre quello poi in puntata che recupera qualche punto intanto vi chiediamo chi volete salvare voi tra Ciro Giuseppe e Jill ditecelo intanto se vi è piaciuto questo articolo mettete il pollice in su e seguiteci sempre su Nova News 24 e quindi vi è piaciuto questo tipo di video 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 Grazie.